Come TXT Group siamo molto felici di presentare questo progetto di questo simulatore Airside con SACBO perché secondo noi il progetto valorizza l'utilizzo delle tecnologie immersive per il safety training perché in questo modo riusciamo a migliorare del training in ambito del safety, di sicurezza dove è assolutamente critico mettere l'operatore alla prova in situazioni che magari in un training classico non possono essere utilizzate. Quindi diciamo che per noi è un vero potenziamento del training for safety classico.